Dal grande fratello a Uomini e Donne, Jeremias Rodriguez non si ferma più. Sulle Goit le ultime news su Uomini e Donne. Jeremias Rodriguez nuovo tronista di Uomini e Donne. Le indiscrezioni, che circolano a Mediaset danno il fratello di Belen sempre più prossimo a entrare a far parte del cast del programma di Maria De Filippi. L'ex Geffino, secondo quanto riportato dal vicolo delle news, potrebbe addirittura prendere il posto di Nicolò Brigante, dopo che quest'ultimo avrà fatto la sua scelta. L'argentino salirebbe sul trono classico per cercare la donna della sua vita. Ad anticipare la notizia della partecipazione al dating show di Canale 5, è stato proprio Jeremias Rodriguez. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una fotografia in cui rivelava di essere in viaggio in direzione Roma. Dopodiché ha pubblicato un selfie, che lo riprende nei camerini degli studi Elios, proprio mentre si stava registrando una puntata del programma Uomini e Donne. Per alcuni potrebbe anche corteggiare Sara Affifella o Nilou Faradati. Intanto, Nicolò Brigante si conferma conteso tra due corteggiatrici. Potrebbe scegliere Virginia o anche Marta, nonostante quest'ultima sia stata allontanata per aver tentato più volte di contattarlo di nascosto e al di fuori della trasmissione. Su Leggo It le ultime news su Uomini e Donne. Jeremias Rodriguez nuovo tronista di Uomini e Donne. Le indiscrezioni, che circolano a Mediaset danno il fratello di Belen sempre più prossimo a entrare a far parte del cast del programma di Maria De Filippi. L'ex Jeffino, secondo quanto riportato dal vicolo delle news, potrebbe addirittura prendere il posto di Nicolò Brigante, dopo che quest'ultimo avrà fatto la sua scelta. L'argentino salirebbe sul trono classico per cercare la donna della sua vita. Ad anticipare la notizia della partecipazione al dating show di Canale 5, è stato proprio Jeremias Rodriguez. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una fotografia in cui rivelava di essere in viaggio in direzione Roma. Dopodiché ha pubblicato un selfie, che lo riprende nei camerini degli studi Helios, proprio mentre si stava registrando una puntata del programma da uomini e donne. Per alcuni potrebbe anche corteggiare Sara Affifella o Nilou Faradati. Intanto, Nicolò Brigante si conferma conteso tra due corteggiatrici. Potrebbe scegliere Virginia o anche Marta, nonostante quest'ultima sia stata allontanata per aver tentato più volte di contattarlo di nascosto e al di fuori della trasmissione. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS